Buonasera telespettatori di ETV. Questa sera parliamo di un'iniziativa importante che vede la partecipazione dei Rotary, è un interclub, siamo a Modena e riguarda alcune iniziative e alcune nuove idee. Ma andiamo subito dai protagonisti e quindi Maria Grazia Palmieri cerchiamo di capire che cosa vi siete inventati, però diciamo forse in realtà il pensiero è molto più profondo. Allora ci siamo inventati qualche cosa di buono come sempre perché quando si parla di Rotary si parla di cose fattive rivolte all'aiuto o che può essere un aiuto materiale oppure un aiuto culturale che è sempre importante. Allora intanto noi siamo i Rotary Club del gruppo Ghirlandina, siamo otto, c'è il mio club che è a cavallo tra Bologna e Modena, quindi Vignola, Castelfranco, Emilia Bazzano e poi c'è il Castelvetro, il Mirandola, il Sassuolo, il Carpi. A Modena ce ne sono due, Modena e Modena Muratori e poi me ne sto scordando un altro. Frignano è stato aiutato, quindi però otto club che hanno deciso diciamo insieme di continuare a fare delle iniziative, così? Esatto, tra l'altro siamo tutti presidenti appena entrati nella nostra carica di un distretto nuovo perché il distretto 2070 che comprendeva Emilia Romagna, San Marino e Toscana è diventato 2072, sta diventando in questi giorni, quindi abbiamo anche l'onore di far parte di questo nuovo distretto. E con questo service di cui parleranno gli amici presidenti crediamo di aver fatto un ottimo lavoro per la collettività. Allora presidente iniziamo da lei, siamo Sassuolo, allora lasciamo stare la promozione in serie A, adesso non ne parliamo, veniamo su questa iniziativa, si parlava di una concretezza attraverso i vostri service ma avete avuto, come dire, un'idea, qualcosa da aggiungere a qualcosa di materiale? Sì perché lo scorso anno i presidenti dei club del gruppo Ghirlandina hanno deciso di dare corso ad un progetto per la costruzione di una sala polivamente nel comune di Novi di Modena, San Antonio di Mercadello, questa sala polivamente si chiamerà Palarotari. Quindi per dare completezza ad un'opera che è di tipo materiale mancava forse quella immateriale e da qui l'idea di fare un progetto a supporto, sostegno del Festival della Filosofia che si sostanzierà nella organizzazione da parte del Festival di una lezione che si chiamerà Lectio Rotary, sarà tenuta da un relatore di prestigio internazionale il cui nome non può essere svelato. Speravamo in un'anticipazione ma c'è stato detto prima della trasmissione non si può. Siamo prima di luglio, non potremo farlo. L'idea appunto viene ai presidenti, anche in ragione, ricordo della presentazione della prima lezione magistrale di Remo Budei lo scorso anno quando si parlava delle cose. Il terremoto ci ha insegnato tristemente che i beni materiali possono essere perduti e gli eventi lo scorso anno l'hanno dimostrato. Ecco, riteniamo che quelli intellettuali, quelli che riguardano lo spirito e la cultura, quelli no rimangano e quindi la completezza del progetto viene data proprio con questa iniziativa. Allora, parlando di Rotary, tante volte si ha la sensazione di un gruppo di persone, insomma diciamo un pochino snob, passatevi tra virgolette la cosa, invece molto casual, diciamo così, il Rotary. Insomma, a parte le battute, cose concrete, la voglia di stare insieme, di ragionare, di pensare, adesso questa idea è unire il materiale e l'immateriale, insomma, come dire, il corpo allo spirito. Decisamente sì, il Rotary è composto di persone che sono a largo raggio componenti della società, in varie funzioni, in vari ruoli e sicuramente non ci trinceriamo dietro tradizioni o strani modi di comportarsi o di escludersi dalla società. Esattamente il contrario, anche questo progetto credo che lo dimostri largamente, diventiamo uno dei partner del Festival della Filosofia, siamo la prima organizzazione che assurge al ruolo di donors, di donatori nei confronti del Festival. Abbiamo preparato, studiato e sottoscritto una collaborazione che non sarà solo per quest'anno, ma che si proietta già fin dall'inizio su almeno due anni e poi ovviamente verrà coltivata, perché poi bisogna anche sapere che nel Rotary tutti i ruoli di gestione, di dirigenza, si potrebbe dire, ma non è una vera dirigenza, sono tutti dei ruoli annuali, per cui saranno altre persone, altre cariche, altri ruoli che porteranno avanti questo progetto, quindi rinnovandolo, portando nuove idee, nuovo modo di fare. Va bene, grazie allora e buon lavoro, buon lavoro a tutti, grazie a voi che ci avete seguito e arrivederci. Grazie a tutti.